e buon pomeriggio bentrovati alla nostra informazione in apertura parliamo del Consiglio comunale di Crotone ieri aperto per ricordare Monsignor Giuseppe Agostino le cui spoglie torneranno in città il prossimo 28 di marzo vediamo eccellenza Monsignor Agostino torna a casa sì sì torna a casa per un desiderio della comunità di Crotone e per anche diciamo una gentilezza dell'Arcivesco in maniera particolare di Cosenza che in qualche modo sente anche diciamo un effetto che potrebbe essere anche provocatorio su questo distacco dei resti umani di Monsignor Agostino da Cosenza per venire a Crotone però io ringrazio lui e ringrazio anche la città perché in fondo il clero che poi mi ha accompagnato in questa decisione non ha fatto che riportare le parole delle loro delle loro dei preti e le parole delle loro comunità Lei nel suo intervento ha parlato di un segno qualcuno ha parlato anche di un presagio può essere una sorta di svolta per la nostra comunità ma indubbiamente se noi riusciamo a togliere riusciamo a ricavare considerando gli effetti seguiti dall'insegnamento che è abbondante di Monsignor Agostino riusciamo a cogliere gli sviluppi io sicuramente penso che ne abbiamo tracciato già una gran parte di quello che potrebbe essere un progetto molto realistico sostenibile di sviluppo dell'uomo di tutti gli uomini di tutto il territorio crotonese perché in fondo rileggendo l'opera di Monsignor Agostino alla luce di quello che lui ha realizzato nella sua vita e alla luce di quello che ha realizzato nella piccola porzione del mondo crotonese che è la chiesa ecco io penso che noi potremmo fare bei passi bei passi significativi e direi anche soddisfacenti sostenibili ma soddisfacenti oggi si è colto l'essenza di questo uomo di questo grande personaggio della nostra città possiamo dire anche se forse non le apparteneva questa città visto non gli apparteneva visto che lui era di reggio però si è colto anche l'affetto dei crotonesi nei suoi confronti sì ora è chiaro che non bisogna esagerare sul discorso dell'affetto però qui noi siamo in presenza di un consiglio comunale io devo dire grazie ai consiglieri a tutti quelli che sono intervenuti perché con grandissimo garbo con grandissima compostezza però anche con grandissima partecipazione dell'animo hanno messo in evidenza e di diciamo diciamo tutti gli aspetti più veri della personalità e del ministero di Monsignor Agostino li hanno messi in evidenza ha usato le maniche del maglione come nodo il marocchino di 34 anni che si è suicidato nella camera di sicurezza della questura di Reggio Calabria dopo il suo arresto per rapina e violenza sessuale e danni di una donna nigeriana il marocchino è stato fermato inizialmente dalla polizia municipale nei pressi del ponte Calopinace poi portato in questura cambiamo argomento è stato siglato a Catanzaro un protocollo d'intesa a favore delle vittime di usura e di estorsione che coinvolge la prefettura di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo la procura del capologo calabrese, l'IMS, l'agenzia delle entrate ed Equitalia vediamo un modo per incentivare le denunce che sono ancora pochissime nel nostro territorio sì, è un modo per dare un'ulteriore spinta a una normativa che esiste da tempo che esiste dalla fine degli anni 90 e che però ha avuto degli incrementi nel nostro territorio perché le denunce nel tempo sono aumentate ma non tali da sconfiggere il fenomeno perché il fenomeno può essere sconfitto solo con una reazione della società civile il racket e usura sono proprio due fenomeni tipici dei nostri territori di cui si fa forte la criminalità organizzata ma anche la criminalità comune ma sono fenomeni che possono trovare una risposta non direi definitiva ma quasi definitiva solo se c'è una riscossa della società civile questo è un modo per dire a coloro che sono vittime di questo denunciate, lo Stato sta cercando di venirvi ancora ulteriormente incontro facilitando proprio i meccanismi che successivamente contribuiscono a creare una sorta di rete protettiva che sono in questo caso quelle del blocco delle procedure esecutive per 300 giorni settimana prossima si cercherà di coinvolgere anche le banche? no, le banche le abbiamo già coinvolte, abbiamo già fatto più incontri abbiamo dato la bozza del protocollo al presidente regionale di Abbi e il presidente regionale di Abbi l'ha trasmesso alla direzione nazionale di Abbi quindi deve essere approvato da loro per poter poi firmare a livello locale perché altrimenti se non hanno l'ok non possono quindi stiamo aspettando questa risposta, i segnali che ci sono fino ad oggi sono positivi su questo ringraziamo Abbi, ho anche avuto l'adesione di singole banche che hanno detto noi siamo disponibili a firmare anche singolarmente quindi è un fatto estremamente positivo il protocollo che abbiamo scritto oggi a che cosa serve? a far sì che la procura sappia direttamente a chi può rivolgersi mentre fino a qui poteva farlo solo attraverso la prefettura che faceva da intermediario con gli altri soggetti oggi invece sostanzialmente il proprietario della Repubblica invia il suo provvedimento alla prefettura e all'interessato per conoscenza ma direttamente ai soggetti che lo devono attuare e quindi sono in grado di provvedere subito l'importanza di questo in che cosa consiste? l'imprenditore che è vittima di questi fenomeni deve immediatamente potersi risollevare dalla difficoltà in cui si trova deve poter far sì che la sua impresa si liberi da questi pesi e goda di un periodo di agevolazione rispetto a tutti gli adempimenti fiscali, tributari, esecutivi e quindi tutti gli obblighi di pagamento sono sospesi sono sospesi per un periodo di 300 giorni che non è prorogabile che non è prorogabile attraverso un provvedimento del proprietario della Repubblica che ha dichiarato conforme a Costituzione dal Supremo Giudice delle Leggi cioè dalla Corte Costituzionale I carabinieri di San Marco Argentano nel Cosentino hanno arrestato una persona per detenzione ai fini di spazio di sostanza stupefacente si tratta di un ragazzo di 18 anni di spezzano albanese incensurato trovato in possesso nel corso di una perquisizione domiciliare di circa 27 grammi di hashish e 3 grammi di marihuana Terzo rinvio per il processo sulla morte della giornalista Alessandro Bozzo che si sarebbe dovuto svolgere oggi presso il Tribunale di Cosenza grande amarezza quella espressa nella famiglia Ci dice tutto Francesca Bartoletti Rinviata al prossimo 10 settembre la prima udienza del processo per la morte di Alessandro Bozzo il giornalista cosentino dell'Ora della Calabria che si è tolto la vita il 15 marzo del 2013 nella sua casa di Marano Principato alla base del rinvio dell'udienza e il trasferimento del giudice Vincenzo Lofeudo la data di oggi era stata decisa lo scorso 6 ottobre nel corso di quella che doveva essere la prima udienza in quell'occasione il giudice onorario Castiglione aveva emesso una ordinanza per chiedere un'assegnazione ad altro giudice a fronte della delicatezza del procedimento e l'eseguità delle udienze che avrebbe avuto a disposizione per impiantare il processo il procedimento era stato allora affidato al giudice Togato Lofeudo ora però trasferito una vicenda drammatica e dolorosa una morte per la quale è stato imputato l'ex editore del quotidiano Calabria ora Piero Citrigno con l'accusa di violenza privata si costituiranno parte civile i genitori di Bozzo la sorella e altri familiari il presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti e il presidente dell'ordine regionale Giuseppe Soluri è un po' come dire la giustizia può attendere e il terzo rinvio come dite è dispiace perché si tratta di un trasferimento interno ad un tribunale di un giudice quindi una prassi normale che però viene normalmente gestita male si sarebbe dovuto pensare prima al fatto che probabilmente questo giudice non potesse portare avanti un processo del genere visto che poi alla fine è la motivazione per cui è stata rinviata dunque non è una cosa insomma piacevole intanto per una questione emotiva e poi per una questione di principio che non funziona bene, non funziona per niente bene insomma tanta l'amarezza ma soprattutto l'incredulità rispetto ai meccanismi della giustizia che stanno contraddistinguendo l'avvio del processo anche un organizzatore, un amministratore di condominio si renderebbe conto meglio che se una persona sta per cambiare casa è inutile affidarle per esempio la gestione di tutto il palazzo visto che stai per traslocare lo daremo a qualcuno che invece ha intenzione di vivere qui quindi è semplicemente una prassi probabilmente consolidata che è quella di tergiversare sugli argomenti meno importanti della nostra vita a sostenere la famiglia anche libera che stigmatizza la piega che ha preso la vicenda dal punto di vista processuale noi abbiamo fiducia nella giustizia però a volte facciamo fatica perché non possiamo stare accanto ai familiari e non poter far nulla se non la nostra presenza, il nostro impegno, la nostra testimonianza la giustizia dovrebbe forse rivedere i tempi, rivedere i modi apriamo ora la pagina del lavoro ritorno a protestare i tanti lavoratori in mobilità in deroga per le mancate mensilità cade a Crotone sentiamo si ritorna a protestare intanto ricordiamo un fatto spiacevole questa mattina a Gioia Tauro si è suicidato un ragazzo che faceva parte anche, se vogliamo, del vostro gruppo una persona che come voi aspettava di ricevere quella giusta ricompensa che era dovuta a un lavoro fatto siete di nuovo qui, siete di nuovo di fronte l'Inps e oggi state protestando stiamo protestando perché purtroppo, come hai già detto abbiamo avuto anche questa notizia che sinceramente ci ha un po' delusi e non solo perché non è possibile fare una morte del genere non ho parole sinceramente per quello che dovremmo avere che più che avere questo sussidio che è quello che chiediamo noi da tanti anni è un lavoro, è quello che avrebbe voluto anche questo ragazzo quindi ci associamo naturalmente al suo dolore e a quello della sua famiglia siamo qua anche per un motivo molto importante tre giorni fa siamo stati a Catanzaro avevamo visto un decreto che è già pubblicato che è ufficiale che poi invece ci dicono che adesso non va bene e devono cambiare il decreto ci ha detto il direttore dell'Inps regionale greco che entro ieri avremmo avuto la comunicazione all'Inps di Cotone quindi avremmo avuto questa mensilità una mensilità e non solo siamo qua anche perché giorno 10 è uscito un comunicato ufficiale dove il nostro presidente Oliverio diceva che l'assessore Guccione dicevano che avremmo avuto due barra tre mensilità di quello che hanno detto purtroppo come al solito si sono sbuntiti da solo Che cosa vi aspettate nuovamente oggi con questa protesta? Spero che almeno arrivi questo decreto che non è molto una mensilità però purtroppo ci sono padri di famiglia che anche quelle 400 o 500 euro sono indispensabili per andare avanti Il gesto di questo ragazzo nel Regino può essere giustificato di fronte a quanto sta accadendo per queste mensilità? Di giustificato io non so cosa dire sinceramente perché io farei stare un po' ai nostri cari politici o a chi ci governa come siamo noi nelle condizioni di un anno senza avere neanche un euro addosso quindi vorrei vedere loro a che fine farebbero e devi mettersi una mano sulla coscienza su questa ragazza perché sentire queste notizie è sconfortante è sconfortante davvero dico pensate che potrebbe essere un vostro figlio ma non lo è per fortuna o per sportuna come la vogliamo dire perché siamo tutti esseri umani quindi non dobbiamo volere male di nessuno però mettetevi una mano sulla coscienza perché questa è l'ennesima non è il primo purtroppo mi sembra che il terzo e il quarto che è già successo per la mobilità intera o per la cassa integrazione in generale quindi noi non vogliamo andare avanti a vedere i morti assolutamente quindi mettetevi una mano sulla coscienza 62 comuni calabresi rischiano di perdere i fondi che gli sono stati assegnati per l'efficientamento energetico Lanci Giovani Calabria è scesa in campo a favore dei comuni ma sentiamo i dettagli in questo servizio 8 milioni e mezzo di euro è la somma prevista da un bando per l'efficientamento energetico dei comuni la Calabria rischia di perderli a 62 municipi erano stati infatti assegnati fondi assegnazione però inficiata da un problema procedurale Lanci Calabria è inteso perciò porsi al fianco dei municipi vincitori del bando affinché si porti avanti una battaglia che impedisca la grave perdita come Calabria rischiamo di perdere 8 milioni e mezzo di euro per il bando poi energia per l'efficientamento energetico dei comuni io voglio spezzare una lancia a favore dei comuni calabresi perché i comuni calabresi su 15 milioni hanno avuto un finanziamento pari al 60% quindi il 60% dei comuni delle quattro regioni a convergenza quindi l'ex obiettivo 1 quindi la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia i 62 comuni calabresi hanno avuto finanziato questo bando naturalmente per un inghippo procedurale si rischia di perdere questa ingente somma e non possiamo permetterci allora come Anci Calabria abbiamo deciso di sposare la causa e di tutelare fino in fondo questi comuni ho chiesto anche alla Regione Calabria nella figura del Presidente Oliverio e dell'assessore Vuccione che ci diano una mano e soprattutto anche a tutta la deputazione e tutti i deputati calabresi romani Benito a di studio, ancora sulla pagina lavoro parliamo della situazione dei dipendenti di Soacro ormai al culmine della sopportazione ai nostri microfoni parla di questa situazione il segretario provinciale della Filticem CGL di Crotone Francesco Gatto ascoltiamola ai nostri microfoni Francesco Gatto, segretario provinciale della Filtem CGL nei nostri studi per parlare di Soacro siete e sono i dipendenti sul sentiero di guerra? in effetti sì nel senso che proprio ieri per nome e per conto dei lavoratori abbiamo avviato la procedura di raffreddamento prevista per i servizi pubblici essenziali quindi anche il tema dell'acqua rientra in questo servizio in cui dovremmo esperire una procedura che si definisce procedura di raffreddamento e di conciliazione davanti al prefetto dopodiché esperita questa procedura dieci giorni prima della data condivisa dello sciopero si possono tranquillamente organizzare i lavoratori per far aderire ampiamente a questo sciopero agitazione insomma da parte dei lavoratori supportati dal sindacato perché le cose non vanno più bene? lo diciamo da tempo lo urliamo da tempo nel senso che la situazione sicuramente è abbondantemente critica e noi crediamo che anche il tempo sia abbondantemente scaduto chi doveva provare a dare risposte sul versante dell'organizzazione e della gestione dell'azienda allo Stato non è riuscita a dare risposte concrete sul versante come delle rispettanze economiche ma anche trovare risorse per la manutenzione degli impianti e quindi per garantire una qualità del servizio degna di un paese civile dall'altra parte abbiamo stimolato più volte le istituzioni e la classe politica di questo territorio anche essa tarda a arrivare con le risposte concrete e noi come definiamo il tempo è abbondantemente scaduto non c'è assolutamente un euro di liquidità nelle casse della società anzi mi preme dire che attualmente noi dovremmo ringraziare immensamente questi lavoratori solo perché con la rinuncia del proprio stipendio riescono a garantire che questa azienda possa far girare le pompe e i depuratori per garantire il servizio ai cittadini crotonesi e della provincia di Crotone quindi io chiedo comprensione ai cittadini crotonesi di fare come delle massa critica insieme ai lavoratori perché solo grazie a loro, allo Stato che hanno la garanzia del servizio idrico nelle proprie case perché assolutamente l'azienda gestisce come l'organizzazione aziendale solo esclusivamente con le risorse spettanti ai lavoratori cioè non paghi i lavoratori per far girare il sistema del servizio idrico in provincia è una cosa inaccettabile per questo diciamo che ormai rompiamo gli indugi i lavoratori come dire sono effettivamente disperati perché vantano quattro mensilità di stipendio che non sono poche quindi allo Stato il fatto di decidere di andare allo sciopero che come sappiamo è un sacrificio per il lavoratore perché rinuncia a una giornata lavorativa è proprio per dire alla politica e all'azienda che ormai il tempo è abbondantemente scaduto Apriamo ora la nostra pagina sull'Expo 2015 parliamo del portale turistico denominato Città del gusto d'Italia che abbraccia tutte le migliori food destination italiane targate naturalmente made in Italy vediamo Cucina targata made in Italy esiste un sito interamente pensato per voi Wonder Food Italy pregustate le delizie del nostro paese lasciatevi stuzzicare da un soggiorno in Italia e dalle proposte turistiche legate all'enogastronomia potrete iniziare un viaggio virtuale nel gusto e nei sapori che vi porterà nel cuore delle città del gusto d'Italia e non solo potrete anche scoprire che basta un click per trasformare la navigazione in rete in una vera e propria esperienza di viaggio di cosa stiamo parlando? Wonder Food Italy il portale turistico per le città del gusto d'Italia una denominazione che abbraccia tutte le migliori food destination italiane che da oggi si fanno conoscere al grande pubblico dando visibilità ai prodotti della tradizione alle specialità locali talvolte sconosciute a livello internazionale offrendo motivazioni e spunti di viaggio agli appassionati di turismo enogastronomico un modo semplice e intuitivo per permettere alle città italiane di interpretare al loro modo il tema di Expo Milano 2015 nutrire il pianeta e energia per la vita mostrando e raccontando le eccellenze enogastronomiche locali e per dare modo ai visitatori che giungeranno nel nostro paese in occasione di Expo e nel futuro di progettare e vivere esperienze di viaggio su misura stimolanti e complete le località che sono scese in campo schierando il loro ricco patrimonio di eccellenze sono Parma, Bologna e Le Langhe quest'ultime due presto online con spunti golosi e idee di viaggio gustose quindi stay tuned e sono tutte destinazioni facilmente raggiungibili dal sito espositivo di Expo Milano 2015 Parma, la Food Valley d'Italia è una roccaforte del gusto e del saper fare italiano che ha già svelato i punti forti della sua offerta gastronomica la città di Bologna vi ammalierà con la maestria delle sfoglie l'imperdibile gusto dei suoi piatti tradizionali e il suo ricco patrimonio culturale ma cosa potete trovare di preciso sul portale turistico di Wonder Food Italy? innanzitutto ristoranti e offerte alloggi a prova di viaggiatore di vacanza ma anche numerose informazioni turistiche con spunti per organizzare itinerari ed escursioni servizi utili per progettare un weekend e contatti dei migliori tour operator guide turistiche e agenzie di viaggio italiane capaci di farvi vivere un'autentica esperienza enogastronomica presentato presso la nuova sede dell'Avis Comunale di Reggio Calabria il progetto Macram è un intenso programma di azioni di volontariato sul territorio che riguarderanno interventi tesi alla diffusione della legalità tra i giovani vediamo il nostro servizio ci può parlare in modo più specifico del progetto Macramè? il progetto Macramè è un progetto portato avanti da un ATS formato da diverse associazioni capofila maestri di speranza che vuole formare 100 giovani regini della provincia al volontariato volontariato in vari ambiti che spaziano dalla salute e donazione quindi ci troviamo proprio nella sede dell'Avis che ospita questa conferenza stampa per passare al volontariato culturale alla cittadinanza attiva al volontariato ambientale e tutti gli altri tipi di volontariato che ci sono in città le associazioni che partecipano al progetto sono associazioni che comunque esistono sono in realtà sia di Reggio che della provincia abbiamo di Oppido l'associazione ricerca alternativa che ha voluto partecipare ed essere con noi in questa nuova avventura che ci vede i protagonisti per formare un nuovo tipo di volontariato e la fondazione Accademia Sapensia Mundi di Roma ha conferito al sindaco di Cassano Gianni Papasso il premio solidarietà e sostenibilità la fondazione promuove l'inclusione sociale con particolare attenzione alle forme di fragilità umana legate alle condizioni psicofisiche dell'individuo il presidente della fondazione Giuseppe Anelli ha consegnato il riconoscimento al sindaco Gianni Papasso nel corso di una cerimonia svoltasi a Roma e ora parliamo di donne contro la violenza il titolo dell'incontro ospitato ieri pomeriggio a Villa Rendano a Cosenza al centro del dibattito dunque la violenza di genere le sentiamo sono tanti gli interrogativi e che si fanno anche pesanti quelli che riguardano non solo la violenza di genere semplicemente ma anche le conseguenze per chi la subisce di cosa bisogna una donna che subisce violenza quale rete di protezione mette a disposizione un paese civile quanto dolore e quanto coraggio si svelano in ogni storia si è inteso cercare di dare risposte a tutti questi interrogativi nel corso dell'incontro dibattito sul tema le donne contro la violenza alle donne percorsi di consapevolezza e libertà ospitato da Villa Rendano a Cosenza a promuovere l'iniziativa il Parco Storico Le Mere in collaborazione con la Fondazione Attilio ed Elena Giuliani Ollus e la Fondazione Fidapa Noi come centro non le costringiamo a denunciare naturalmente le seguiamo anche se non vogliono denunciare sicuramente la consapevolezza che acquisiscono le aiuterà nel corso degli anni ma noi in un certo senso siamo soddisfatte della nostra azione perché le donne che si sono rivolte a noi sono sopravvissute questo lo possiamo dire con certezza e quindi vuol dire che si può sopravvivere alla violenza per quanto la violenza porti con sé una dose una grande dose di dolore però si può sopravvivere ed è importante che oltre le donne che aiutano le donne poi ci sia il sostegno dell'istituzione Un incontro partecipato a cui hanno dato un importante contributo a dei teli lavori che hanno potuto dare conto di un lavoro sul campo spesso difficile e faticoso Bene, è tutto per questa edizione grazie come sempre per averci seguito ora ci sono le notizie sportive l'informazione torna più tardi alle 17 Arrivederci Serie B il campionato degli italiani Appassionati di calcio e non solo ben trovati al consueto appuntamento con Bnews il notiziario web che vi aggiorna sulla Serie B Con la vittoria del Frosinone a Varese si è concluso quindi il 32esimo turno di campionato I Laziali hanno approfittato dell'inferiorità numerica dei Lombardi maturata al 12esimo minuto per l'espulsione del capitano Corti e sono passati in vantaggio al 24esimo del primo tempo con Dionisi Al 37esimo è arrivato poi il raddoppio di Carlini Il Varese ha provato a riaprire la gara al 42esimo con Zecchin ma nella ripresa, dopo una traversa colpita dal Biancorosso Culina il Frosinone ha chiuso il conto con il secondo gol personale di Carlini mentre la formazione di casa si è fermata nuovamente sulla traversa sempre centrata da Culina All'82esimo appena entrato in campo Santana ha fissato il punteggio sul definitivo 4-1 sfruttando un bel servizio di Lupoli Gli uomini di Stellone con questo successo si riportano a due sole lunghezze dal secondo posto mentre il Varese resta a fanalino di coda a quota 27 punti al pari del Brescia Sfatato il tabù dei liberati per il Carpi di Castori che dopo lo scivolone interno col Pescara ritrova il successo e i 9 punti di vantaggio sul Bologna Sabato gli emiliani inoltre hanno trovato la prima vittoria della loro storia a Ternia al quarto tentativo Nei tre precedenti fin qui disputati infatti Imbacogu e compagni non avevano mai raccolti punti in un capo comunque storico per il Carpi visto che il 24 agosto del 2013 gli emiliani facevano il loro esordio in Serie B Di contro con questa sconfitta la Ternana diventa la squadra insieme al Trapani ad aver perso il maggior numero di partite consecutive in stagione ovvero 4 e proprio per quanto riguarda il numero di sconfitte in campionato il Crotone ha inflitto al Brescia nello scontro salvezza dell'uscita il quindicesimo dispiacere stagionale facendo diventare le rondinelle la squadra ad aver perso il maggior numero di gare in stagione al pari proprio dei calabresi 32esimo turno che sorride anche al bomber del Modena Granocce che con il gol al Vicenza raggiunge Jeddah in testa alla classifica dei marcatori stranieri più prolifici di sempre in Serie B a quota 69 gol ma se in diablo nonostante la rete non ha portato i tre punti ai suoi lo stesso non si può dire per Diego Falcinelli che ad Avellino ha realizzato la sua prima doppietta in carriera tra i professionisti l'attaccante 23enne al partenio oltre a regalare la vittoria ai suoi ha messo a segno anche il suo 21esimo gol in Serie B in 118 presenze da segnalare anche il record negativo in stagione per il Catane che per l'ottavo turno consecutivo rimanda l'appuntamento con la vittoria la sconfitta di Chiavere inoltre mette fine all'imbattibilità degli Etnei reduci da 4 pareggi consecutivi contro Modena, Vicenza, Spezzi e Bari e chiudiamo parlando di un ritorno al gol perché dopo poco più di un anno e 11 mesi è tornato a segnare in campionato Mario Santana per il centrocampista del Frosinone si tratta del secondo gol in Serie B che arriva a distanza di 12 anni e mezzo dall'ultimo il 19 ottobre del 2002 l'argentino all'epoca calciatore del Palermo siglò il definitivo gol dell'1-3 nella vittoriosa trasferta di Vicenza e chiudiamo la pagina relativa alla 32esima giornata di campionato con le decisioni del giudice sportivo sono 15 gli squalificati per due giornate torregrosse e corti mentre per una Elie Sbaffo dell'Avellino Poli del Carpi Schiavi del Catania Benedetti del Cittadella Viviani del Latina Bernardini del Livorno Nizzetto del Modena Biarnason del Pescara Castiglia della Provercelli Delia del Vicenza Jacoponi della Virtus Sentella e Bacinovic della Virtus Lanciano dal calcio alla palla a mano per i crotonesi i primi tre punti nella prima gara playoff ottenuti con il Benevento al Palacro Professore Schipani un nome importante della nostra palla a mano italiana è sempre un piacere ritrovarla qui a Crotone Ti ringrazio sei sempre gentilissimo è un piacere trovare vecchi amici come Claudio te e altri il presidente che è anche una persona correttissima e quindi ci stimiamo a Vicenda e quindi ecco è un piacere veramente è una storia è una storia la nostra che parte dagli anni Ottanta primi anni Ottanta il Benevento ha sempre avuto un ruolo importante nella palla a mano italiana qual è la situazione in questo momento? Beh della palla a mano diciamo è una situazione penso io molto critica perché se guardiamo i gironi di A2 la A2 sta scomparendo quasi perché c'è stato qualche altro ritiro e quindi penso soprattutto da questo girone questi due gironi ne pescheranno diverse altrimenti ci saranno grossi buchi per il prossimo anno Mister allora la squadra oggi si è espressa probabilmente un po' a tre cilindri perché forse non era necessario accelerare tanto ti aspettavi diciamo di vincere così semplice? No io non conoscevo il Benevento e quindi non sapevo infatti i ragazzi ce n'erano pochi in panchina se avessi saputo che la squadra era così non all'altezza della situazione avrei portato qualche ragazzo in più per fargli fare un po' più esperienza e infatti abbiamo ruotato tutti quanti in modo che si sono divertiti tutti hanno giocato tutti quanti diciamo che probabilmente è stata una buona occasione anche per vedere all'opera come dicevi tanti ragazzi qual è la situazione in questo momento del vivaio crotonese soprattutto quanti di questi ragazzi pensi possano essere già pronti per una stagione importante il prossimo anno? i ragazzi stanno crescendo non sono pronti al 100% e a loro servirebbe fare più partite e giocare magari con persone con gente che è più ad alti livelli qua in Calabria purtroppo il livello settore giovanile non è molto sviluppato e si vede quando poi andiamo a giocare in Puglia o andiamo a giocare in altre regioni dove i ragazzi sono di qualità superiore tecnicamente e tratticamente superiore a noi ti aspettavamo aspettavamo la nostra squadra per questo playoff iniziato nel migliore dei modi sì iniziato nel migliore dei modi abbiamo lavato tutta la settimana per rendere tale abbiamo coperto i gap che abbiamo trovato nelle scorse settimane in difensiva sia in difesa che in attacco e adesso puntiamo ad andare a vincere in casa dal breve evento perché comunque i playoff sono duri sono lunghi e adesso dobbiamo dare il meglio di noi c'è forse un po' di rammarico quando si pensa a come è finita la stagione regolare probabilmente una posizione migliore avrebbe reso ancora più agevole il cammino in questi playoff assolutamente diciamo che nel corso del campionato abbiamo commesso molti errori che poi durante il resoconto finale sono pesati perché abbiamo perso contro squadra alla nostra portata abbiamo perso punti importanti a quest'ora potevamo essere in posizione in classifica migliore quindi trovarci con squadre diciamo molto più alla nostra portata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti